Devo dire, questa pillola, la verità hai detto? Allora, veloce però, la voce è alta che non ti senti, è banale Forse aveva ragione, perché la verità è banale ed è triviale? Perché semplicemente spesso non ci accorgiamo quanto si è con la libertà A fine dei conti che cosa facciamo? Facciamo sempre altro che ricercare la verità La verità è la verità, beh la verità è connessa con la nostra libertà E quindi dov'è la banalità e la trivialità del tutto? Non si può essere veri se non si è liberi